Un calendario dedicato alla Chiesa di Sant'Anna che partirà da ottobre fino a maggio 2025. Sì, è un calendario variegato di vari appuntamenti musicali, presentazioni di libri e poi successivamente saranno anche messe in programma delle mostre, quindi delle esposizioni di quadri ed altro. Ed è un modo per valorizzare ancora di più questo gioiello che abbiamo in Viale Bovio che è la Chiesetta di Sant'Anna. Ristrutturata, restaurata da pochi mesi e restituita alla città grazie alla collaborazione con l'associazione ANAS e attraverso i volontari dell'associazione già è possibile visitare per due mezze giornate la Chiesetta che è anche un patrimonio artistico importante. Ma sarà molto bello poter assistere a vari eventi che si susseguiranno dal mese di ottobre e si proseguirà con concerti ed altre presentazioni di libri. Mi piace sottolineare il fatto che si esibiranno giovanissimi musicisti e questo è anche un modo per poter valorizzare i nostri talenti, i nostri ragazzi perché è un luogo molto identitario, un luogo bello con una bella acustica e quindi crediamo che sia un'ottima occasione per loro ma per tutta la cittadinanza.